Grazie Presidente, sarò brevissimo per esprimere la nostra assoluta contrarietà a questa mozione. Qui si vuole mistificare, modificare le parole, mettere confusione e non far capire, soprattutto alle persone che non sono informate, quello che veramente è l'Islam. Io, a contrario del consigliere Alberti, ho avuto l'occasione di pranzare insieme a dei musulmani una sera, sono stato accolto con tanto amore e con tanta accoglienza, la lotta la stanno facendo i musulmani contro i terroristi, perché non si può cambiare le parole, la guerra è al terrorismo, non è una guerra all'Islam. Evitate di mistificare le paleole e a ingannare le persone. Grazie.